C'è poi non lo so, ditemi anche voi se a me mi sembra sempre la maniera più veloce Oh merda esci! No vabbè dai, uh! Sono vivo! What the hell? Ok, va bene, facciamo finta che non sia successo nulla Dicevo che dovrebbe essere il modo più veloce per viaggiare, anche quello più sicuro Cazzo e adesso? Ci devo andare a piedi? Cosa? Blackie? Sione si inbuca Black Bella Bella? Eh Black, sorry, avevo un elicottero ma poi è esploso No vabbè, ma si scivola, che c'entro io? Ci serve un mezzo, senti, torniamo lì per piacere, spostamento rapido Guarda come va, guardalo No, oddio, no, perché non me lo dite, regà, di non fare il teletrasporto che spono sempre qui dentro, mannaggia la miseria Non c'è più l'elicottero Poi è lontanissimo Boh, prenderò una macchina, cercherò di raggiungerti, vediamo un po' Aspetta un attimo Che ho dei problemi qua a fare Ma aspetta che qui non si va, è un piccolo cieco Ah no, sì, si va più avanti Ah no, Black è morto, meno male, va Ma non sono droni, sono dei tizi con dei mantelli Eh, vai dritto Lo vorrei vedere a te Poi io sto seguendo la strada, ma non so se la strada va da Black Cioè, probabilmente no Non puoi morire e responare? No, mi devo aspettare per forza 30 secondi Sì, ma comunque sono venuti dei tizi con le maschere e con dei mantelli Ah, eh, sono i cattivoni No, ma come? Come faccio io a venire vicino a te? Non posso, non c'è altro asferimento rapido Ah, sì, 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 fermi tutti Mi sto arrivando da te Eccomi Dove sei? Sono qua loro Eh sì Ho vinto io Ho vinto, ho vinto Cos'è? Ho preso delle bacche di goji Quelle fanno bene, eh Oh, ma con tutto lo spazio devi stare attacchiato Vai, vai Vuoi un po' di MDMA? Di che? Ce l'abbiamo dietro, mi sa, eh Un po' di cristalli Te li cucino subito Nasconditi nei cispugli per non farti vedere Ma di che? Io sto andando lì Sono sopra di loro Penso No, no, il drone mi sta... ok Ma se mi butto di qua secondo voi mi uccido Pian pianino così qua Aia No Ecco qua Hai visto? Non c'è grello Che scevo? Ma chi è che sta... Sono io che lago o si te che lago? Non lo so, c'era uno in auto però Probabilmente era inerme E non faceva niente ma io ho fatto un headshot Io ti vedo volare ovunque tipo Ma vieni da me? Arrivo Ok No Ah ok Metterò nel baule, posso? No Dove mi porti, Stella? C'è qualcuno che mi vede Chi? Io vedo Elicottero Elicottero Tiriamolo giusto qua Ecco qua Che scevo Lo sai come si butta giù l'elicottero? Basta uccidere i due tizi che sono fuori C'è What? Ok Vuoi prendere il mitraglione? Io ho finito i colpi più che altro, sì Aspetta Aspetta Io sto fermo Mitragliere Ok ci sono Vai Allora il suono di questa roba qui è un po' bruttino Non mi piace Black? T'ha posto? Sì sì Volevo Volevo Analizzare la situazione Pronto? Qua c'è un punto esclamativo È un punto interrogativo È una cassa Butta La discesa è iniziata È io ciao Io me butto No Ciao Blacky No io mai esploro qua Vedi un po' se te lo dai il loot È parcheggiato un po' male Penso What? No Ma guarda che macchina hanno Dobbiamo averla per forza Che figata Non ruba Non sei qui a fare Non è GTA Cioè noi in teoria stiamo aiutando delle persone Sono te se mi butto da qua sopra Secondo me Secondo me no Vabbè dai Niente di che Scusa la strada fisce qua guarda Bam Dobbiamo andare a piedi Ma forse non era questa la strada Questa non è una strada Abbiamo un problema Mi sono uscito da pietra Secondo me stiamo passando dove non si potrebbe passare Però vabbè Avremmo tagliato due volte Boh Cioè va bene Ma come corre? No aspetta c'è successo qualcosa 900 metri così Vedo dura eh Guarda 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 che drone No i droni No 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 Questo è l'aereo Mi ha visto Mi ha visto Dove sei Blacky? C'è qualcosa di rosso C'è qualcosa di rosso È un elicottero Messo un puntino Ma chi è questo? Dove sono? Ah ti vedo anch'io Ciao Qua c'è C'è un tizio? C'è un tizio Che ti sa? Niente Eeeh Sono sottoterra Cosa vuol dire? Si è piaciuto Ho trovato un obiettivo sottoterra Vabbè Caricatore piccolo dei fucili di assalto What? Si possono ammazzare questi No dai Dai Gli hai fatto cascare il binogolo Sei cattivo Ma scusami È una cosa voluta sta qua? Che stai facendo? Sei vangato Ma io che sto facendo? Scusa ma Io ti vedo sottoterra Ah no Sono uscito Sono uscito dalla terra Oh cazzo scusa Come? Posso salire? Come no? Per uno? Dai No Così sì No però cade Se vado avanti no? Non lo so Tipo la store Prova No niente Funziona Vabbè vai vai Ma le moto Sono stranissime qua comunque Siamo arrivati comunque Blacky Penso sia questo Evviva la fase stealth del gioco Ok È l'elicottero Mamma mia Ma l'elicottero è atterrato Come è atterrato? È atterrato O è caduto Non lo so Però vabbè se è caduto È rimasto in piedi Il drone No ce l'ho Ops Non so questo Tratto per Ecco qua Fatto Missione completata Furgone distrutto Ti è piaciuto questo incarico? No Oh ma funziona allora Eh sì Vai Blacky Aspetta mettiamo un Aspetta scusami C'è un cadavere però Eh sì È seduto con noi Andiamo Non funziona tanto bene Non va su Non va su Qua Hacker è il computer Che cosa sta succedendo? Casino Ci stanno sparando Ci hanno tirato giù Oh ma sono In fiamme Ma sono morto Blacky Che cosa hai fatto? Sparare No ma dove sei scusami? È so creepato Io ero Ero dentro l'elicottero ancora Ma io vado a venire di Marti Perché sei sparito? Non hai capito Sono morto Morto Proprio morto Ok Ma mettiamoci no? Ah no Se vuoi andare sul tetto Vai vai Ah andiamo sul tetto Sì sì Dici passiamo inosservati? Sì sì Non ci vedono Non ci vedono E intanto non ci ha visto nessuno Perché ti sei buttato giù Tipo da di E io c'ho questa Guarda No ma il tasto Il tasto devo schiacciare Ciao Così i nemici non mi vedono Sono un ninja Sono un ninja Anch'io ti vedo Tutto bianco Noi siamo venuti per Là Trenta metri Faccio io Ah ok La cosa verde Security starts Ma devi salvare qualcuno? No sto hackerando un portatile Fatto Ok puoi venire su Ci sono le scale Dove sono io? Eh ma non ti vedo Sono sopra di te Porca Se tu esci da questa parte Ci sono le scale Per venire a vedere l'elicoltro Ti è piaciuto questo incarico? Nessuna opinione Io vorrei tanto salire da te Ma Non ho idea di come fare Arrivo Ah eccole le scale Sei Cinque Quattro Tre Due Due Uno Mamma mia Beccate sta adrenalina in petto In realtà t'ho messo anche il pugno Nel petto perché Però Ma non mi hai fatto niente Come no? Sei in piedi Io mi vedo Per terra ancora What? Ok Sei sparito Va bene È una beta regà Prendiamola per quello che è Tu hai calcolato il computer E E basta Abbiamo vinto A posto Sono esploso Quanto ti manca? 28 27 26 I 5 Non mi metto a pressione così Spa Arena bomba Bomba Perfetto Blagy Mi sono sacrificato Perfetto Non Civino